Mirko Pasquinuzzi, il coach della formazione a retina della scuola basket, Amen scuola basket. Una partita che era alla nostra portata, è mancato l'entusiasmo, è mancato il fisico, è mancato la poca propensione alla realizzazione. A noi in questo momento abbiamo molti problemi di natura mentale perché non riusciamo a vincere e quindi ogni partita per noi è sempre più dura. Dobbiamo mettere insieme diversi giocatori, diversi personalità e a volte ci riusciamo in alcuni tratti della partita e gioiamo bene, altri in cui non ci riusciamo. Loro sono oggettivamente più squadra di noi, molto quadrata, hanno dei punti di riferimento ben chiari. Noi in questo momento siamo abbastanza sul chi va là. Comunque ancora c'è cinque partite al termine, tre fuori casa, due in casa, a parte la posizione di classifica per l'ultima importanza relativa. Conta arrivare allo spareggio in forma più che sufficiente e adeguata. C'è il materiale a disposizione? Noi quando abbiamo iniziato a settembre eravamo convinti e siamo ancora convinti che questa squadra si possa salvare. Sapevamo che la nostra posizione era bassa e che la nostra salvezza passava dagli spareggi dalla seconda fase. Dobbiamo trovare un po' di entusiasmo, un po' di fiducia nelle prossime cinque partite e riuscire a trovare quelle sicurezze che in questo momento non abbiamo e poi andiamo a giocarcela con chiunque.